Non c'è nulla che accomuni l'idea di Triestina alla situazione che si sta vivendo. Lo ha ribadito il sindaco Roberto Cosolini, intervenendo oggi alla conferenza stampa che ha fatto il punto sulla situazione dell'Unione Triestina 2012. Presenti i capigruppo in Consiglio Comunale Marco Toncelli, Roberto De Calli, Cesare Cetin, Franco Bandelli, Paolo Rovis, Roberto De Gioia, l'assessore allo sport Eddie Krauss e il Presidente del Consiglio Comunale Iztok Furlanic e il bel consigliere Angelo Currelli. A seguito dell'unione dei capigruppo svoltasi ieri, l'amministrazione comunale e i numerosi consiglieri hanno così voluto chiarire la posizione assunta, sottolineando, come ha detto il sindaco, alcune questioni che sono diventate una via di mezzo tra una farsa e una tragedia. Noi facciamo gli amministratori pubblici e non assumiamo compiti che sono della giustizia, sportiva e ordinaria, ha proseguito Cosolini. Ma la situazione è arrivata al capolinea, non c'è la credibilità e la sostenibilità richiesta dalla Trieste sportiva. Riteniamo, salvo essere smentiti dai impegni chiari, che questa proprietà debba mettere a disposizione incondizionatamente le quote societarie per dare un senso al futuro della Triestina e al suo patrimonio di storia e tradizione. Perché se non c'è un cambiamento radicale è meglio tirare una riga e ripartire da zero. Sempre il sindaco Roberto Cosolini ha spiegato quindi che è meglio attendere il 30 novembre per la veridica di concordato e ancora la scelta di non togliere lì dal campo in quanto disincentivo per l'arrivo di un'eventuale nuova proprietà. In ogni caso, è altrettanto chiaro, ha concluso Cosolini, che sono venuti a cadere i presupposti per una fiducia novennale all'attuale società. Sono seguiti gli interventi dei capigruppi presenti. La responsabilità e civiltà dei tifosi, che non hanno dato il marchio a chi non lo merita, è stata ricordata da Franco Bandelli, che ha evidenziato anche l'importanza di far capire a questo signore e questo capitolo è chiuso. E mancano 20 giorni è una data importantissima. L'impegno a gestire una situazione e creare i presupposti per il futuro della Triestina è stato messo in luce da Cesare Cetin, mentre Roberto De Gioia ha sottolineato la necessità di rifondare la Triestina, con l'auspicio di far capire a Pontrelli di lasciare campo libero a chi vuole impegnarsi. Paolo Rovis ha parlato di approccio non di pancia ma di testa, per cercare di guardare al futuro ed un possibile subentro. Infine Marco Toncelli ha sottolineato l'approccio responsabile e costruttivo dell'amministrazione comunale, che pur a fronte di inadempienze non ha fatto il notaio per cercare di dare ancora un futuro alla Triestina.